Preghiera della Sera Signore, voglio ringraziarti ancora una volta per la chiarezza della verità e dell'enorme d'azione da Te trasmesse alla Tua Chiesa. Fa che io sia sempre pronto ad accogliere senza esitazioni l'insegnamento della Chiesa, ad accettare e a trasmettere con umile devozione le direttive ricevute per quanto riguarda la fede, la morale e ciò che è essenziale per la nuova cristianizzazione del mondo d'oggi. Amen. Amen.